E allerta meteo a Brindisi, il maltempo ha raggiunto il Salento e la protezione civile ha allertato la popolazione delle province di Brindisi e Lecce, dichiarando lo stato di criticità rossa. Nel particolare la sezione della protezione civile del comune di Brindisi ha previsto che per tutta la giornata di oggi, venerdì 7 novembre, sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi localmente elevati. Il che, unito al vento di burrasca forte che ha interessato il capoluogo adriatico nelle ultime ore e la frequente attività elettrica fornita da lampi e tuoni, costituisce un vero e proprio pericolo. Il comando della Polizia Municipale di Brindisi ha ritenuto utile fornire alcune raccomandazioni ai cittadini e agli automobilisti brindisini da prendere in severa considerazione nei casi di forte ed intensa pioggia o in situazioni di vere e proprie bombe d'acqua e nubi fragili. Evitare di uscire dalle abitazioni in caso di evidenti precipitazioni forti che durino oltre i 30 minuti, evitare i tratti di strada facilmente allagabili in caso di forte vento ed evitare di camminare sotto i balconi vicino ai cartelloni di prossimità di alberi alti. Il maltempo, oltre a creare situazioni di disagio, ritardi e problemi di vario genere, potrebbe anche causare il mancato svolgimento del mercato domenicale sperimentale previsto per domenica prossima nel quartiere Santeria di Brindisi. Se infatti maltempo dovesse protrarsi fino alla mattinata del 9 novembre, come già succede, in occasione dei consueti mercati settimanali del giovedì in caso di pioggia, molti degli ambulanti che raggiungono Brindisi da fuori città potrebbero evitare di partire dalle proprie abitazioni subendo un ulteriore danno economico.